Consigli spirituali La preghiera Chi lascia la preghiera lascia di amare Gesù. La meditazione è la fornace dove si accende e si alimenta il fuoco dell'amore. Nella mia meditazione brucia un fuoco. Salmo 38 Santa Caterina da Bologna diceva La persona che non pratica la preghiera si priva del legame che ci unisce a Dio. Così per il demonio, trovandola fredda nell'amore divino, non sarà difficile convincerla a cibarsi di qualche frutto avvelenato. A questo proposito, Santa Teresa diceva Chi persevera nella preghiera malgrado tutte le tentazioni del demonio sono sicura che il Signore lo guiderà al porto della salvezza. Chi non abbandona la preghiera, presto o tardi, arriverà al traguardo. Scrive ancora la Santa che il demonio si affatica tanto a distogliere le persone dalla preghiera perché sa che se sono perseveranti nella preghiera egli perde.